Questo video è offerto da Allora, Marek il nostro capitano è il nostro napoletano di Slovacchia La prima cosa che voglio dire, anche se la sapete, è chiedergli Marek si è sposato poco tempo fa Poche settimane fa, poche settimane fa, perché ha rinunciato al viaggio di nozze per due motivi Prima perché naturalmente qui in Trentino è un posto straordinario, sicuramente molto migliore di qualunque altro posto dove lui sarebbe andato in viaggio di nozze Ma anche e soprattutto perché voleva essere ovviamente qui a prepararsi per una stagione importante, vero Marek? Sarà una stagione importante questa? Speriamo di sì, ma sicuramente ce la mettiamo tutta per fare ancora meglio di l'anno scorso e per migliorare e accontentare tutti noi, tutti i nostri tifosi Marek! Che cosa vuoi chiedere? Volevo chiedere che Napoli lo ama troppo e quest'anno io ho parlato con mister Raffael, dobbiamo puntare su di lui perché nozze è top che ci fa fare il salto Solo lui ci può fare quel salto di qualità per portarci allo scudetto Lui è mancato l'anno scorso perché è un grande infortunio che è stato il suo primo infortunio della Galliera Quest'anno ti aspettiamo forti e riduzzi perché quest'anno è l'anno giusto per vincere lo scudetto Non c'è domanda, non c'è domanda, c'è solamente carica Bene, andiamo con una domanda vera Grazie a tutti